partito cavalli della quinta corsa king lasen quello che fa partenza insieme a dorico che quasi di inerzia si ritrova in vantaggio in terza posizione si sistema dream academy a precedere argentina knight che ripiega le spalle di alzafina di dentro c'è silver the best poi forever and ever sempre nel gruppo cavalli che vanno a affrontare la prima parte della curva sempre con dorico in vantaggio dal centro della pista king lasen che lo segue da vicino si è posizionato sulla sua tre quarti terza posizione c'è il favorito dream academy poi argentina knight alzafina e in coda silver the best forever and ever comunque a contatto guadagnando qualcosa di dentro siamo in retta d'arrivo già king lasen che va di dentro dorico che si impegna di fuori tra questi cerca subito di prendere un'azione buona il favorito dream academy argentina knight che sta adeguato in quarta posizione quando siamo a 400 al traguardo dream academy si presenta in canter o poco più nei confronti di king lasen che invece è accompagnato braccia e frusta di dentro c'è anche argentina knight lo stesso dorico ma al paletto dei 200 dream academy ha tutto completamente sotto controllo largheggia a piacimento accumulando una cosa come dieci lunghezze forse qualcosa anche di più tornato alla vittoria dunque dream academy offrendo uno standard direi molto buono in sella federico bossa ottava vittoria in carriera il training è quello di vincenzo fazio colori di vincenza pellegrino 5 al primo posto nei confronti del numero 7 king lasen per il terzo se non abbiamo visto male numero 2 argentina knight ma dream academy vince praticamente senza uscire dal canter della mattina quota di 1 e 85 grande favorito assegno da capo annelle per la quinta è tutto grazie a tutti 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 grazie a tutti